In occasione della inaugurazione del Charlie in Pesaro Urban Hotel, Nardo Filippetti, presidente del gruppo Limberg, con la riqualificazione dell'ex cruiser e salito a quota tra i grandi alberghi in città, ha ribadito la direzione che deve prendere il turismo pesarese già esternata in tempi recenti. Investire sul comunicare Pesaro all'esterno e puntare su un'identità chiara. È una città con tante potenzialità turistiche. Oggi però, se andiamo su internet e digitiamo destinazione turistica, Pesaro non appare mai. Fatelo voi con i vostri internet. Aiutiamo la ricerca. Pesaro, destinazione turistica balneare, non appare mai. Allora, secondo uno che cerca un luogo per andare in vacanza, Pesaro non è città turistica. Allora sta a noi cercare di farla conoscere. L'Italia abbiamo di tutto e tutti ci cercano. E non si sa dove andare e tutti propongono tutto. Noi dovremmo cominciare a proporre una cosa, però adesso questo qui sarà un discorso che faremo con il Comune. Noi comunque ci muoviamo perché abbiamo stanziato un budget importante per la comunicazione e il marketing per far capire che non si può pensare di fare una destinazione con l'albergo. Quindi noi investiremo molto sulla comunicazione nel territorio. Perché gente che va in vacanza o che si muove anche per affari, vanno in un posto perché c'è qualcosa che gli risponde. Poi potranno andare in un albergo a una stella, a otto stelle. Poi una volta che sono qui, certamente sceglieranno loro, ma i clienti devono scegliere, ma soprattutto far sapere che esiste una destinazione bella come la nostra. Un tema di identità di turismo al centro anche della recente conferenza stampa delle categorie alberghiere, ospitata proprio all'Hotel Charlie, che chiedeva maggiori controlli su una movida che talvolta rischia di uscire dai regolamenti. È una cittadina così piccola e con un numero di camere così limitato che potrebbe essere una bomboniera e non si può pensare di avere turismo di massa. Non l'abbiamo mai cercato né noi albergatori né comunque la destinazione. È sempre pensato di rivolgersi ad un target di clientela diverso, famiglie tranquille, magari anche persone agé, diciamo, piuttosto che non anziani. Perché anche il concetto di anziani, dei gruppi che c'erano una volta, sta molto cambiando. Ci sono anziani che desiderano avere un buon servizio, un buon prodotto, una buona qualità, capito, non con dei prezzi assurdi o eccezionali, ma comunque un minimo. E sono disposti anche per la loro vacanza che si fanno all'anno minima, che cominciano a fare anche tre o quattro di vacanze questi anziani, quindi è un target di riferimento molto importante. Abbiamo chiesto di poter mettere un po' più di controlli, pensare che si possono avere la musica fino a luna, le due di notte sotto un albergo dove ci sono famiglie e persone che desiderano riposarsi. Poi noi, come abbiamo detto, non scegliamo. Noi posizioniamo l'albergo e lo indirizziamo ad una domanda di un certo tipo di clientela in funzione di quella che è la strategia. Se qui volessimo fare tutte le discoteche, io non ho problemi, vado a cercare tutti quelli che vanno a ballare nelle discoteche. Se vogliamo gli anziani, vado a cercare gli anziani, poi ci sono anziani da livello 1 e da livello 10. L'importante è che però tutto quanto insieme, così concentrato in 400-500 metri, non è accettabile, per la mia visione. Una visione personale sostenuta da investimenti sostanziosi nel turismo della città. Noi abbiamo investito più di 70 milioni, di cui 20 solo nel Nuovo Charlie. Lei capisce che io non ho alternativa, non ho scelta. Lei come cittadino può scegliere di vivere in un posto e in un altro. Io come imprese, una volta che ho posizionato qui gran parte dei soldi o degli investimenti che abbiamo fatto, questi non sono spostabili. Quindi non ho scelta, dobbiamo andare avanti per forza e mi batterò con tutto me stesso e con tutte le forze, sia fisiche che economiche, per far sì che questa diventi una gestionazione nota.